Ieri pomeriggio è durato circa sette ore il sopralluogo del NIAT, il nucleo investigativo antincendio, nella stanza della clinica psichiatrica della casa di cura Villa Serena di Città Sant'Angelo, dove lo scorso 20 di maggio hanno perso la vita due pazienti, Americo Parlante, 63 anni, di Rocca Montepiano, e Domenico Di Carlo, 51 anni, di Vasto. Gli specialisti dei Vigili del Fuoco hanno eseguito nuove rilevazioni e soprattutto hanno prelevato materiale aggiuntivo rispetto a quanto fatto nel primo sopralluogo subito dopo la tragedia, l'attività supplettiva si inserisce nell'ambito delle indagini che sia i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pescara che i Carabinieri stanno conducendo per accertare le cause del rogo. Il fascicolo aperto dalla procura di Pescara infatti al momento è a carico di ignoti per le ipotesi di reato di incendio colposo ed omicidio colposo. L'avvocato Biscotti, nominato dalle famiglie dei due pazienti morti carbonizzati, qualche ora dopo il rogo aveva spazzato via ogni ipotesi di responsabilità da attribuire alle vittime in quanto a detta del legale non erano né le condizioni fisiche e mentali di agire ed infatti il compito del Niat è proprio quello di stabilire con ragionevole certezza quale sia stata la causa del rogo, se una sigaretta oppure un fiammifero o altro materiale infiammabile e se ci siano state eventualmente delle problematiche legate alle misure di sicurezza nella clinica e alla preparazione antincendio del personale. Per questo sia i Vigili del Fuoco che i Carabinieri stanno continuando anche a raccogliere testimonianze e documentazione approfondendo l'aspetto della sorveglianza dei pazienti data anche la loro particolare condizione patologica. Parallelamente all'indagine della magistratura pescarese anche l'assessorato alla sanità regionale e la ASL di Pescara hanno avviato un'indagine interna concentrata sugli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione nella struttura sanitaria che è stata rimessa poi alla procura di Pescara.